Le previsioni meteo per lunedì 26 agosto di Globus Television. Lunedì, la pressione è in diminuzione, ma sulla nostra regione il bel tempo sarà prevalente. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 37 gradi sulla costa Ioni, mari, mar tirreno poco mosso, mar Ionio poco mosso, stretto di Sicilia mosso. Grazie a tutti.